ahhh 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 buongiorno fiamme e benvenuti in questo nuovissimo super video se siete nuovi qua io mi chiamo Sofia Campana lui si chiama Wilson che è sempre geloso quando inizio a fare i video perchè non sto dando un 100% delle mie attenzioni a lui quindi Wilson tranquillo potrai fare parte di questo video in questo video come avrete visto dal thumbnail dalla foto io provo questo nuovo Wilson puoi smettere di mordermi per favore proverò ad usare questo asciugatore per i capelli non so se lo posso chiamare phone perchè il phone è tipo la cosa che va che si accende con l'aria no e quindi boh il phone per i capelli o asciugatore per i capelli è così cioè si mette proprio questa roba sulla testa io l'ho appena aperto quindi sto leggendo ora le istruzioni ho solo visto la foto su Amazon e non ho capito nulla quindi ora leggo le istruzioni prima dice wash your hair quindi lava i capelli apply hair cream on white hair metti la crema per i capelli sui capelli bagnati penso il balsamo intende wear disposable shower cap quindi questo cosa di plastica credo che sia dentro cominciamo subito cliccate quel subscribe in sotto iscrivetevi a Sofieland per vedere altri video pazzeschi come questo qui sul mio canale vedete dei video vari dai vlog in palestra di ginastica artistica ai challenge pazzeschi come questo che vedrete oggi ai vlog con i cagnolini di Whistle Estelle ai discorsi teenager nella mia nuova serie quindi non dimenticatevi di iscrivervi a Sofieland per non perdere altri contenuti bellissimi soprattutto questi prossimi mesi ci sono dei contenuti pazzeschi che sono in arrivo non vedo l'ora di condividerli con voi quindi e proviamo questo challenge che brutto questo coso io tipo odio quando devo andare in piscina e mettere una di queste robe sui capelli è tipo la cosa che odio di più da mettere una di queste robe ma ah ci sono tanti così lo uso tante volte ok so che lo vuoi mangiare ma non puoi mangiarlo oddio ma che schifo io odio queste cose facciamo così lo metto lo metto su tipo in questo modo nella foto è così così quindi provo a fare lo stesso è giusto oddio ma che brutto questo rovo e poi è tipo fa un rumore stranissimo per la plastica fa odio quel rumore pure ciao Esther sei venuta a salutare ciao fiammi il prossimo step il prossimo step wear our bonnet hat on the head metti il nostro capello bonnet si chiama sulla testa sistemando la banda elastica sotto il mento ok proviamo no Wisen già mangi la plastica no tutti qui a vedere la mamma cosa fa di pazza oggi ormai siete abituati a vedere queste robe stranissime che porto in casa oddio guardatela ragazzi ma che roba è questa oddio Wisen lo vuoi provare tu? mettiamo uno su di te pronto? uno due tre miau 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 oddio miau ma devo mettere questa nella vostra testa ma stiamo scherzando mamma ma che brutta è un un impatto di fashion qui voglio essere più bella quanto l'hai oh mi sa che ho sbagliato qualcosa così ma se devo fare questo tutti i giorni alla mattina cioè ah si stringe così usando questa roba perché è grandissima infatti si ancora un po' stringo 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 così oh madonna ma cos'è sta roba e poi lo metto intorno al mento questo con questa roba sulla testa i ragazzi vengono correndo per me ma ma perchè riesco a fare tutte le cose difficilissime in palestra ma non riesco a fare questo botone è solo un snap ok mamma mia sto sudando e penso che si fa così no? e poi ti aspetta ah si insisce poi un phone a questo coso a questo tubo aspetta voglio vedere i screen qua eh mi raccomando tanti screen su instagram tagandomi ma quindi questo tubo tipo l'aria oh che strano l'ho sentita l'aria che ha soffiato soffiato oddio che strano mi faccio starete qua all'orecchio qui dice di attaccare il phone qua e quindi non capivo prima che si usa comunque il phone quindi lo devo collegare e poi ma non va tipo sulla plastica non capisco come si asciuga i miei capelli qui dice oh madonna guardate che faccia che ho qui dice asciugamento veloce ha più buchi di ventilazione per distribuire il caldo più velocemente con più equilibrio e e quindi è più veloce più veloce per asciugare ah a questo robo è il modo che si può usare anche sui bambini comprendo e si può usare in questo tubo qualsiasi grandezza di phone quindi phone piccolo phone grande ma perché non usare il phone e basta ah suitable for travel comes with small black storage bag arriva con questo sacchetto piccolo il modo che lo portare in vacanza si perché vado a messico a camminare in cielo con questo robo sulla testa si si quanto sono pazze io da 1 a 100 secondo voi nei commenti sotto quanto è pazza Sofia da 1 a 100 100 è tipo la più pazza che avete mai visto qui su youtube e uno è tipo normale tipo io penso che sono abbastanza normale tipo con questo robo sulla testa mi è arrivato il posto weekend oh Provi hack ho tastato fermo Oh, ma che bella sensazione che è, sull'orecchio in opera eh, mi fa troppo soletto sull'orecchio. Giornata tipica nella casa di Sophia Land, se ordino una pizza così apro la porta così, ciao! Buon weekend, come stai? Io bene, sto asciugando i miei amati capelli, e tu come stai? Aggiornamento, sento la testa caldissima, mi sa che la plastica si sta tipo sciogliendo sui miei capelli, speriamo di no, ma non penso che dovevo togliere la plastica. Cioè così non dici di toglierlo, quindi continuiamo. L'altra cosa è che tipo tenendo questo mi brucia la mano tantissimo. Vediamo se riesco tipo a metterlo intorno a bene, come si beve. Ok, oh yeah baby, oh che professionali che siamo. Guardate come si gonfia! Oddio! Aia! Brucia! Madonna, ma brucia tantissimo! E sono ancora bagnati. Se provo senza la cosa di plastica, perché secondo me questo non funziona. Tipo questo blocca l'aria, no? Quindi proviamo senza. Dai, il cappello bellissimo da Fashion Week. Ci sono capelli fuori. Possiamo asciugare i tuoi capelli se sono fuori del bonnet? Sì, questo robo comunque si chiama un bonnet. No, quello è mio! Wisin, vuoi mangiare tutte le mie cose? Vabbè, ma che scomolo questa roba. Sta bruciando un pochino le piamme. Senti, quando faccio così? Sì, l'aria va ovunque, no? Ok, sono passati due minuti, facciamo un check. Ma sapete che sono un po' più asciutti? Ma sono un po' più asciutti, vi giuro, guardate come sono! Non sono bagnati come prima, eh? Un po' sta funzionando. Asciutti, 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 asciutti i miei capelli! E dai, no! Iscrivetevi a Sofia Land A parte che ci metto metà del tempo usando il phone normale Ma fiamme un po' sto funzionando eh Guardate come sono Ma sono quasi asciutti Guardate da vicino Sono quasi asciutti Non ci credo Davvero non ci credo Io pensavo che sarebbe stato un flop Un mega flop questo Ma tipo intorno alla testa poi Sono completamente asciutti qua Anche dietro Continuiamo perché credo in te Cappello stranissimo ma bellissimo per i miei capelli Quanto sono sexy Ah Too sexy Odia Too sexy Odia Too sexy Odia I'm too sexy But my shirt My shirt's so sexy Fiamme ma mi sembra Squidward Mi raccomando tanti miei amici su Instagram Sofia Land versione Squidward Però lui è arrabbiato tipo La cosa più bella è che quando l'accendo fa Si ingredisce Sento un profumo da bruciare Non un profumo Odore da bruciare Mi sa che mi sto un po' bruciando i capelli Ma C'è proprio l'odore di capelli bruciati È caldissimo Ok io stop con quello proprio Perché non è che voglio che tutti i miei capelli cadano dalla mia testa Esperimento È andato abbastanza bene Io lo darò una tre stelle Solo perché sono generosa Capelli abbastanza asciutti Non completamente Però più asciutti che mi immaginavo Odore di capelli bruciati Quindi non vi censurete di farlo Perché Capelli bruciati non è bello Un'amica che una volta usando la piastra Ha messo troppo tempo sui capelli I capelli si sono proprio caduti per terra Quindi Quello mi spaventa tantissimo Ragazzi non dimenticatevi di iscrivervi a Sofieland Per non mancare nuovi video come questo Se avete dei prodotti strani di make up o capelli Che volete che provo Fatemi sapere sotto nei commenti Sarei super curiosa E sono sempre disposta a fare cose pazzesche qui su Sofieland Ormai questo lo sapete XOXO Al prossimo video Che il fuoco sia dentro di voi Ciao fiamme Yesi gonna miss me Yesi gonna miss me Yesi gonna miss my love Ciao fiamme Ciao fiamme Ciao fiamme Ciao fiamme